Per Vescovo in Arabia, qual è la sfida per il dialogo col mondo musulmano? La prima sfida è di sapere cosa credono gli altri e anche di sapere cosa crediamo noi, perché io ho fatto la constatazione che uno dei problemi è che non ci conosciamo, è la base del dialogo che conosciamo meglio, per quello ci vuole degli incontri, cominciando con i problemi più gravi, per almeno avere passo per passo una entrata nella mentalità degli altri. Quindi a livello di comunità anche in Italia possiamo cercare l'incontro, ma a livello più grande come fa lei, qual è la sua attività quotidiana in quel di Arabia? La mia attività quotidiana è soprattutto essere Vescovo dei Cattolici, perché io ho un milione di Cattolici nel mio vicariate provenienti dal mondo intero, ma maggiormente dall'Asia, Filippina e India. E poi c'è l'incontro con i musulmani locali, soprattutto con quelli del governo, perché fa parte della mia attività di mantenere dei rapporti perché siamo dipendenti da loro in molti riguardi per avere dei terreni per la costruzione delle chiese, i permessi rispettivi e anche di curare un po' questi rapporti senza venderci. Grazie. Vesco. 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 Eh.